Si è tenuta la tradizionale consegna dei riconoscimenti dell'Associazione Alto Casertano nella suggestiva location del Casale di Riardo. Il premio è riservato alle eccellenze casertane che nel corso degli anni si sono distinte nella loro vita sociale e professionale. Fra gli altri l'ex sindaco di Caserta Gian Paolo Iaselli, il presidente di Camera di Commercio di Caserta Tommaso De Simone e la scrittrice giornalista Nadia Verdile. Un premio che anno dopo anno diventa sempre più prestigioso ed ampito grazie al lavoro dell'ottimo presidente dell'Associazione Antonio De Pantis che sentiamo e poi a seguire Iaselli, De Simone e Verdile. Presidente siamo alla quarta edizione, come nasce innanzitutto questa iniziativa, questo evento? Sì, nel momento in cui costituimmo l'Associazione, proprio statutariamente fu stabilito che oltre ai soci fondatori e i soci ordinarie che ogni anno si iscrivono all'Associazione, poi c'era un certo numero di soci che a seconda del loro profilo e sull'impegno che davano lustro nel territorio, noi chiedevamo la possibilità di poterli avere come soci onorari della nostra associazione e così è nata questa situazione ciclica che ogni anno vede uno, due, tre, un numero X di soci aderire in maniera onoraria. Sicuramente è una bella soddisfazione, ringrazio il presidente De Pantis per questo riconoscimento che ha voluto tributarmi. L'Associazione Alto Casertano del resto svolge un'opera meritoria nel campo della cultura ed è importante che le associazioni culturali in questo momento particolare della vita del paese in cui assistiamo a un vuoto o a un semi vuoto della politica, svolgano un'opera di supplenza interessandosi anche dei problemi della quotidianità. È una gran bella soddisfazione certamente quella di stasera quando mi ha chiamato il dottore De Pantis, l'amico Antonio, per comunicarmi che mi era stato assegnato insieme a degli altri illustri personaggi di questo territorio, di questa nostra terra di lavoro. Il premio ovviamente mi ha entusiasmato questa cosa, mi ha riempito di gioia perché è un riconoscimento peraltro in un territorio e mi consente un tono campanilistico che è il mio perché sono dell'Alto Casertano, per metà riardese, quindi riceverlo in questo casale a Riardo è ancora più grande la soddisfazione. Allora, Nati e Verdile è un riconoscimento importante da un'associazione altrettanto importante, quindi una grande soddisfazione, no? Assolutamente, non posso che essere grata e penso sempre che se ci fossero stati ancora i miei sarebbero stati contenti, quindi io sono grata per questo riconoscimento e sono grata per questa accoglienza, davvero. Da Riardo è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it